Un successo che vale oro, tre punti che restituiscono una buona dose di ottimismo e di serenità. Il Palermo fa bottino pieno a Benevento in uno scontro salvezza fondamentale per il prosieguo del torneo. Eroe della domenica, il bomber Matteo Brunori, che dopo settimane un po' appannate dal punto di vista delle prestazioni, ha preso in mano l'attacco ed è tornato a recitare da leader della squadra. Suo è il gol che ha sbloccato il risultato all'inizio del secondo tempo. La rete è giunta al termine di un perfetto contropiede, orchestrato in tandem con Gomes. Il cannoniere rosenero ha poi sfiorato l'euro-gol con un pallonetto da distanza siderale, con la sfera che è andata a stamparsi sul palo. Palermo più compatto e concreto, quello visto in casa del Benevento. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la squadra di Corini ha saputo tenere alto il baricentro con il merito principale d'aver chiuso in difesa ogni varco ai padroni di casa. C'è ancora tanto da fare dal punto di vista della costruzione, ma i tre punti sono la classica boccata d'ossigeno per Brunori e compagni che già giovedì torneranno in campo in casa per il turno infrasettimanale contro il Como. Le parole di Corini al termine della gara di Benevento. E' vero che i primi 15-20 minuti il Benevento ha spinto, abbiamo retto bene perché alla fine verso la porta abbiamo ricevuto pochissimi tiri, forse uno a fine gara. Dopo la seconda parte del primo tempo secondo me abbiamo palleggiato meglio e siamo stati poco incisivi nei 25 metri finali dove secondo me potenzialmente abbiamo creato 3-4 situazioni veramente pericolose. Dunque il primo tempo è finito in equilibrio, a parte la conclusione di Acampora non ricordo niente di particolare. Il secondo tempo è partito su questa falsariga, abbiamo fatto un bel gore conquistando palla alta, andando a giocare con Matteo dove è riuscito a realizzare. Secondo me la partita poi si è sviluppata in questa situazione, Benevento ha provato a spingere, noi abbiamo difeso oggettivamente molto bene, penso che l'unica occasione vera e concreta è stata quella di Improta nella parte finale. Noi già prima potevamo andare sul doppio vantaggio e secondo me alla fine l'abbiamo anche legittimata con una grande prestazione di squadra, compatta, coesa, con una squadra oggettivamente forte nell'individualità e anche nella proposta di gioco che fanno e dunque siamo molto contenti di questa vittoria.